Tre serate dal 5 al 7 luglio all'interno dello stabilimento Tettuccio di Montecadini Terme. Il concorso Canoro Festival Vucidoro, come sempre organizzato dalla Meristar, torna con un nuovo spettacolo tutto dal vivo. Sul palco a condurre le serate Alessandro Masti, Stefano Baragli, Simona Galli, Elena Presti e Paola Belloni. Quest'anno ritorna sempre con le tre categorie, i bambini, i junior, tre categorie junior, i giovani e senior. I junior che vanno dai 7 ai 15 anni, i giovani dai 16 ai 38 anni e senior dai 39 in poi. I nostri senior che sono il fiore all'occhiello del Festival Vucidoro 50 anni e dintorni. Sono tutti cantanti preparati che hanno studiato, hanno vissuto accademie, insegno a vocal coach, quindi hanno un'esperienza, veramente sono preparati. Quindi i junior, tu li vedi, sono quella tenerezza, quella voglia di fare, di arrivare. I giovani lo fanno anche in modo che dalla passione diventa una professione. I senior, anche i senior, è quel sogno nel cassetto, che lo possano tirare fuori e realizzare come meglio, cioè come meglio una vetrina stupenda del Festival Vucidoro e hanno veramente dell'opportunità. O siamo seguiti da Trasmissioni Rai, Mediaset, quindi abbiamo proprio i casting sia per i junior sia per i senior di Ocanto, quindi siamo molto seguici. Sono orgogliosa di questo.